Come ogni mano, Polsimon Alfonso si parte da Ubedricadio. Raggiunge uso abo, chi munde a Amandria. Salute Polsimon! Salute! Salute Polsimon, quanto aveva raggiungo? Si, un cento raggiungo in l'asploitation. Si, di noi una settantina ebbe. Come è che Bob is partiti da Udraualioko, io credo. Allora, è sempli. Facciamo dire due teman e dopo faccio gajo e dopo bertalivato, tutto quello. Allora, il resto di Udrauali, diciamo. Chi dice che mi piace a Ubiù? Un Udrauali, un Udrauali che mi piace a Ubiù, di un cliente, di un contatto con i miei clienti. Di un prodotto, di un prodotto che si assomiglia. Di un prodotto, di un prodotto che si assomiglia. Di un prodotto proprio a noi, diciamo. Con una stampa fatta da Ligiani, diciamo. Il prodotto che si assomiglia di un prodotto molto edificio? È unimento di una dalla famiglia. È un problema di un prodotto? È un problema di un prodotto. In effetti di un prodotto. È un problema di un prodotto. Si sono iniziative e si sono iniziative a fare un lavoro di trasportazione, a fare un po' di animale, un po' di gaggio. E se si sono iniziative a fare un trasmissione? Si sono iniziative a fare un trasmissione, se sono iniziative a fare un lavoro, e non mi sembrava di essere iniziative. Come si è iniziative a fare un senander al ritorno? Non mi sembrava di essere iniziative, ma anche. Compa la monta e la città di Londra, e il gabbro passerà nua giornata pace a non t'a estrae e i diassi agli Giannini. Nel tempo, il prossimo è l'usine volta in paese d'Anda, in Cagile, che è un latte, un aspetta. A misura o una di preso, lampada e mistiata da ghiugà giugati. Ecco, ora, non c'è più che da aspettare. Una stondetta dopo si borrompe il gattiato. Prima di maniera rossa e poi a pezzucci, da gaccia a usero. E' tutto a fare i dampi. C'è un'agente. E' un'agente. E' un'agente. E' un'agente. A me metto il gatto nel gattiato e mettere il gattiato in città. I gesti essi seguri. E' un gattiato presto un più delicato... Ecco, ora, ho già fatto. E' un minuto quando si rischiave. E' un po' sgottato e dopo sbraguò. Un bastabio che girarli e salirli non si dill lasciarli ben notati. Nascendo a vicino, il bastore gira altri gassi. Questo è il caccio fresco, che ha da metterlo, non ciò che lascio qui, perché ci diamo, ne va togli e poi dopo mettiamo la sciola qui e dopo non tridiamo per dargli un colore appena più caldo. Di regola, il bastore brugge una ginquantina di gassi al giorno, ma sti boghi d'ampio ne bovacono trentino. Quest'anno un'idea d'antulatte, perché? Quest'anno c'è stato un gattivo a fare, c'è stato una fiebre catarale, come la chiamano, e ci ha fatto diminuire l'antulatte e non trasploatazione, malorosamente. perché è beggore un anno da due manco più una gaccia, e Gabriele da un'usame prima di meno, di questo? Sì, ma di meno perché ci sono stati malati anche. Facce che la vostra produzione è diminuita? Sicuro, sicuro c'è stato assai meno grazie, assai meno rendimento e facce che c'è stato meno rendita di qua. Tando, come avete da qua? Forse la maggiore c'è stato un po' di grazie, ma per avere più l'attaccia e poi non parla a questi venimenti. C'è stato un po' di malattie, e poi c'è stato un po' di malattie, e poi c'è stato un po' di uida in un rurale. Dite a me, perché avete scelto di un paese? La scelto è semplice. C'è stato un po' di malattie, e poi di nuovo di questo mistero, per l'amore di un prodotto di gerato. Avete a baù, appena, di peo vostro mistero? Il mistero è un negativo a basso, di gerato. E poi, semplicemente, è un po' di banca no iso. E se voi avete una rama, qual è sarebbe? Una rama sarebbe che tutto il mondo non bisognava fare il lavoro di gerato, quando le fattere. Andiamo a testare o stagare? Andiamo a testare o stagare. Passe paguè. Appena i gajouitio. Cagli, da spartego parentè amigui, da un spuntino all'improviso in piazza a i già do bedregatio. Passe paguè. Passe paguè. Passe paguè. Passe paguè. Passe paguè. Passe paguè.